All'esami, fa tutto da solo, all'esami con grande forza, all'esami, falla dentro, Néstorovsky! 1-1 del Palermo, con l'uomo più criticato, Néstorovsky! 1-2 del Palermo, con l'uomo più criticato, Néstorovsky! A tempo quasi scaduto, il Palermo passa in vantaggio! Il Palermo e Spugna, Bergamo! Quart'ultima contro, terz'ultima, guardare la classifica sembra la classica, sfida, salvezza! Attenzione a questa palla, dentro per Néstorovsky! 1-0 del Palermo, forse nel momento migliore della Samp, al minuto 60, ancora lui, Néstorovsky! Néstorovsky! Amici della Serie A Team, buonasera da Nataniel Rizzo e benvenuti alla Barbera, teatro di Palermo-Udinese, match è valido, giornata di campionato, è cominciata la Palermo-Udinese, perde il pallone Felipe, favorisce Néstorovsky che entra in aria, Néstorovsky contro Danilo, Néstorovsky, pallone sul mancino! E arriva il gol del Palermo con Néstorovsky, Palermo 1-1, Udinese in 0, Néstorovsky! Amici della Serie A Team, buonasera da Giampiero Foglia-Manzillo e benvenuti a Cagliari-Palermo, partita valevole per l'undicesima giornata... Diamanti... Si guarda attorno, aspetta che arrivi Rispoli a supporto, il cross interessante e non sbaglia Néstorovsky! Il Palermo prova a rientrare in una partita al minuto 34, arriva la rete nel 2-1, quinto gol in campionato per Ilia Néstorovsky che prova a tenere vive le speranze del Palermo! Il cross basso di Rispoli, Néstorovsky brucia Cepitelli che per la prima volta della serata si addormenta... Néstorovsky! Il pareggio del Palermo con Néstorovsky su grande azione iniziata da Alessandro Diamanti! Un nuovo partita valevole per la tredicesima giornata di campionato! L'errore di Castaldello, palla recuperata, Bruno Enrique, Néstorovsky! Il vantaggio del Palermo al nono minuto, tutto regolare, dice Russo, settimo gol in campionato per Ilia Néstorovsky! E il Palermo passa al Dallara, esulta, posa mezza, 100 metri di distanza! Rispoli, palla dentro, il colpo di testa, il gol! Néstorovsky passa in vantaggio il Palermo! Clamoroso al San Paolo dopo 5 minuti! Il colpo di testa di Ilia Néstorovsky, ottavo gol in campionato per il Macedone! Amici della Serie Team, buonasera da parte di Massimiliano Cocchi e benvenuti a Palermo! Qui ci si gioca la salvezza! Qui c'è Palermo, Crotone, 20... Dentro l'area Embolo, Embolo si porta il pallone sul mancino, un dribbling! Poi arriva il cross, ancora per Néstorovsky! E il Palermo passa in vantaggio, sempre lui, sempre Ilia Néstorovsky! Sono 9 in campionato! Prima vittoria casalinga stagionale del Palermo che scavalca in classifica il Crotone! Decide il gol di Néstorovsky! Amici della Serie Team, buongiorno da Federico Zanon e benvenuti a Palermo! Sampdoria, partita che vale la 26esima giornata di campionato! E' un lancio match decisivo per il Palermo, un altro match da dentro fuori! Barbo Rechini, rispoli al cross, interessante per Néstorovsky! Poi Palo che nell'anticipo! Calcio di rigore! Fallo di Berezinski su Palo, calcio di rigore per il Palermo! Alla fine va Néstorovsky! Con il sinistro! Conclusione centrale! E avanti il Palermo con il dicimo gol in campionato! Néstorovsky! Amici appassionati della Serie, buonasera da Federico Zanon e benvenuti a Palermo Empoli! Apertura ad aprire tutto su Néstorovsky! In in Africa! Apertura ad aprire tutto su Néstorovsky! Al avenue per il clave per il palermo nel ROM E' un'univella data di liev staff! Aышa di prodotto ad aprire tutto su Néstorovsky! Grazie a tutti.